Michele Accettella, dopo un inverno problematico per la spiaggia di Francavilla, nella zona nord inizia la stagione balneare. E dopo anni insomma in cui abbiamo dovuto affrontare la situazione in emergenza e quindi veramente anche gestire questo problema sentendoci un po' impotenti, devo dire che oggi ci troviamo qua con una bellissima giornata, una spiaggia comunque che è cresciuta, tanta gente, tutti molto entusiasti, quindi per me è un motivo di vante e di orgoglio aver contribuito a far sì che la stagione balneare possa partire. La manutenzione ordinaria di questa spiaggia che proseguirà a partire dai pennelli che partiranno a settembre? Infatti da settembre massimo ottobre dovrebbero partire i lavori per i pennelli, sperando che siano risolutivi e a quel punto potremo avere una spiaggia bellissima e non dover ogni anno intervenire con delle soluzioni che poi non sono definitive. Qui 15 giorni fa, 20 giorni fa ci stava un metro d'acqua, questo è un risultato positivo, questo è un risultato da copiare, questo è un evento da far capire a tutti che la manutenzione delle arenie deve essere un progetto ordinario che può trovare anche il contributo dei privati, cioè anche noi privati, noi colleghi balneari dobbiamo incominciare a capire che il nostro investimento non è soltanto l'acquisto di ombrenone e sdraio ma anche la manutenzione della spiaggia. È tutta sabbia nutrita, tutta pulita, tutta compattata, non viene più portata con i mezzi, con i camion, non diventa più una questione di tipo di fastidio ambientale ma diventa un prodotto naturale che consente poi di fare le spiagge.